Ischia è un'isola sicura. Si può venire a godere delle sue bellezze che vanno dai suoi splendidi di paesaggi scorci, al mare, alle aree interne, dal suo patrimonio storico-culturale a quello naturalistico, al termalismo, all'enogastronomia, all'artigianato di pregio, in piena sicurezza e trascorrere il proprio tempo nella maniera migliore possibile, ritemprando il corpo e lo spirito. Per lanciare questo messaggio scende in campo anche da Rai, che con la sua articolazione internazionale, Rai Italia, firma una proposta televisiva Ischitiamo, in stretta collaborazione con Rai Campania e l'ausilio della regione Campania e della città metropolitana di Napoli, per rilanciare il brand Ischia in tutto il mondo. Dal prossimo 17 al 21 aprile, all'interno di Casa Italia, il programma che va in onda quotidianamente sui quattro canali televisivi distribuiti da Rai Com in America, Africa, Asia e Australia, proposto anche sul portale Rai Play, arriverà una settimana interamente dedicata alla più grande delle isole campane. Lo farà raccontando con l'aiuto dei rispettivi sindaci e delle istituzioni sovraordinate, i territori di Barano, Casamiccio, La Forio, Ischia, L'Acquamino e Serrara Fontana. Verranno anche confezionate immagini di archivio per dare una fotografia esatta dell'oggi, regalando alla potenziale audience di 120 milioni di persone in cinque continenti, un immaginario trade union capace di collegare il passato con il presente e il futuro. Il programma è stato presentato questo pomeriggio nella sede Rai di Napoli, alla presenza dei vertici dell'azienda e della conduttrice Roberta Amendola, del vice sindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci e dei sindaci dell'isola. L'isola Rischia è una delle isole più belle al mondo, come città metropolitana siamo intervenuti anche dopo il tragico evento che è capitato. L'obiettivo è proprio di valorizzare quest'isola, far capire a tutto il mondo intero. L'isola oggi finalmente è un'isola sicura perché sono stati fatti tutti gli interventi e quindi tutti i turisti del mondo possono venire in questo straordinario scenario, tutto il punto di vista sia paesaggistico, sia enogastronomico. Da Buenos Aires a Rio de Janeiro, passando per Los Angeles e New York, fino ad arrivare all'Europa, Pechino e Sydney. Ischia sarà quindi per una settimana intera la meta delle mete. Quindi l'obiettivo nostro è proprio di valorizzare quest'isola, portandola in tutto il mondo.